amiche carissimi amici buongiorno dal vostro giocherellone ragazze ragazzi il giocherellone è tornato e questa mattina vi fa vedere un video molto molto particolare c'è un video legato agli ultimi acquisti in realtà sono stati fatti nel tempo degli ultimi mesi per quanto concerne il mio canale allora che cosa vuol dire il mio canale in pratica io sono sto facendo partire questo mio progetto legato alla storia del videogioco e per fare questo che cosa mi serve mi serve sicuramente un computer performante in modo tale da sicuramente permettermi permettermi di acquisire le immagini anche dalle console dalle console ovviamente tipo xbox 360 tipo playstation 3 tipo playstation 4 e la prossima playstation 5 perché comprerò la playstation 5 per voi tendenzialmente cioè per fare lo streaming e giocare online un altro mio grande progetto è quello di portare blood born completandolo con tutte e tre le fini stream mandolo proprio da pc quindi attraverso l'acquisizione quindi attraverso l'acquisizione tramite pc adesso vi faccio vedere più o meno le cose che ho comprato ho comprato varie cose ho comprato anche diciamo qualche cosa che non con non è tanto in linea con quello che è praticamente il il come si chiama il progetto del canale però avevo promesso i miei follower di far vedere praticamente quello che avevo comperato adesso ve lo fare ve lo mostro praticamente vi faccio inizio a far vedere un pochettino le cose le cose le cose più o meno importanti ho comprato questo ecco dot praticamente l'ho pagato pigliato questo qua praticamente con l'orologio come potete vedere questo ecco dot praticamente mi permette di utilizzare la mia connessione wifi attraverso praticamente attraverso internet avendo amazon prime posso praticamente posso praticamente ecco qua ragazzi arrivato manux network lo salutiamo il grande manux e quindi ragazzi che cosa ho fatto comprato ecco qua oggi addirittura dal vivo caro manux hai capito bene il giocherone te l'avevo promesso questo video e te lo fa vedere il video che volevi vedi come viene da te praticamente e quindi ho comprato l'ecodotto con l'orologio con l'orologino praticamente mi permette di ascoltare la musica di sapere le condizioni climatiche l'ho già installato quindi non ve l'ho fatto per deciso anche io a ciao a tutti anche chiodatis ragazzi guardate qua chi arriva da chiodatis arriva anche praticamente una gomma vedete ragazzi la gomma del giochere luna e quindi ragazzi ho comprato l'ecodotto in realtà lo trovate in offerta ultimamente su amazon quindi per chi ovviamente volusi utilizzare l'ecodotto con il mitico con la mitica alexa ottimo per sentire la musica racconta le storie di tutto e di più vi dice le condizioni climatiche vi mette la radio quindi mi sembra 40 euro 30 30 o 30 euro o 30 35 euro senza orologio con l'orologio praticamente c'è questo orologio qua mi piaceva costa 44 euro e 90 quindi sicuramente lo consiglio lo stiamo usando anche in casa quindi è un acquisto secondo me per chi ha quei 44 euro 90 una connessione wifi con la fibra ottica a casa si ragazzi ve lo consiglio proprio perché è veramente fantastico lo potete mettere nel salone lo potete mettere in cucina cioè i luoghi anche molto aperti oltretutto l'altoparlante di questo ecodotto è molto molto potente al di là di quello che si dice si dice ovviamente che sia un prodotto abbastanza scarso non interessa prendere solo i capelli al vento grande chiodatis i capelli lunghi di chiodatis i capelli biondi praticamente di chiodatis e quindi ragazzi questo qua ve lo consiglio un acquisto veramente incredibile all'inizio pensate quando l'ho comperato non lo volevo nemmeno installare perché ho detto vabbè mi metto a sentire la musica però ho visto che un po mia mamma un po mio padre hanno iniziato ad usarlo e quindi è un acquisto fantastico ve lo consiglio allora primo primo pezzetto degli acquisti andata via la vita ancora una tecnologia la cerva per adesso è più sfizioso che utile tu dici però io credo questo per una persona diciamo anche abbastanza diciamo anziana il fatto di poter mettere la musica di richiedere i cantanti soprattutto se tu tieni amazon prime è sicuramente ottimo infatti ti ripeto i miei genitori comunque non hanno 15 anni non hanno 20 anni lo stanno usando e si divertono proprio con questo anno si rilassano proprio divertirà verrà molto molto bello comunque che ve lo consiglio andiamo avanti allora ho comperato anche la fire stick praticamente vedete ragazzi la mitica fire stick la fire stick in realtà che cos'è questa fire stick l'ho pagata 25 euro per chi non ha una televisione praticamente una televisione una televisione una smart tv aspettate ragazzi voglio girarvi la luce altrimenti vedete il riflesso per chi non ha una 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 televisione praticamente intelligente utilizzare la fire stick è una cosa ottimale e ottimale vedete ragazzi questa fire stick qua praticamente e perché trasforma praticamente il vostro televisore hdmi con un ingresso hdmi deve avere un ingresso hdmi quindi può essere un hd prepared oppure può essere anche un hd ready o anche un full hd qualsiasi hd deve avere un ingresso hdmi o hdmi e trasforma quindi la televisione in un vero e proprio computer quindi in realtà che che cosa potete fare potete andare su youtube su netflix su amazon a su amazon se avete amazon prime potete vedere tantissimi film ascoltare la musica quindi per 25 euro questa quella versione a 1080p non so se notate qua un pochettino se metto praticamente a fuoco in automatico con la mia videocamera incredibile ecco qua la mia amica di videocamera ottimo quindi devo dire la verità per 25 euro vi portate a casa sta cosa vi voglio però far vedere che cos'è la fire stick perché aspettate un attimo aspettate eccola qua che cos'è la fire stick la fire stick è praticamente questa cosa questa cosa qua vedete esce praticamente questo grande caricatore esce questo grande caricatore adesso vi faccio vedere praticamente questo grande caricatore di amazon il carico questo carica batterie qua praticamente vedete nero col bianco che in realtà potete usare anche per altri scopi perché in realtà il carica il caricatore praticamente lo potete staccare vedete ragazzi lo potete staccare e quindi praticamente già questo cavetto c'è questo cavetto ragazzi sta cadendo veramente di tutto usb praticamente lo mettete qui dentro vedete ragazzi lo mettete qui dentro avete creato il caricabatterie l'uscita è praticamente questa qua una micro una mini usb praticamente e lo attaccate ragazzi dove adesso vi faccio vedere all'interno di questa chiavetta questa praticamente qui all'interno di questa chiavetta pensate ragazzi c'è addirittura c'è addirittura non so se adesso si vede un quad core come processore come processore c'è un quad core ea questa entrata la vedete questa entrata qua questa qua va dietro praticamente l'entrata hdmi o hdmi l'attaccate praticamente qui dentro ecco qua guardate l'attaccate qui dentro e l'attaccate dietro al televisore uno dice giocherellone ma poi dopo come faccio a navigare come faccio ovviamente a navigare con questa chiavetta in realtà in realtà che cosa posso fare praticamente l'attacco dietro altre misure a seleziono l'entrata hdmi e poi dopo posso praticamente con questo telecomando vedete esce proprio questo telecomando le braccia muscolose del giocherellone e quindi posso con queste praticamente con questo telecomando posso andare a selezionare vedete ragazzi con questa croce qua a sinistra destra sopra e sotto e questo quello ok posso selezionare i vari input c'è anche il tasto del volume e del sonoro quando io vado ad associare la fire stick con i comandi del televisore però dovete fare una configurazione se volete dare dei comandi vocali potete premere il microfono vedete ragazzi il microfonino praticamente che si trova praticamente sopra tutto e potete dare i comandi vocali si illumina praticamente questa vedete ragazzi questa spia che adesso è spenta perché ci sono le pile però ovviamente non trova il segnale con la fire stick perché non è collegata in realtà potete chiedere per esempio tipo alexa cerchi il film di richard gear cerca rocky balboa cerchi il film di rocky ecco qua quindi potete dare dei comandi vocali oltretutto li potete anche scrivere la fire stick poi è compatibile con addirittura pensate è compatibile con con quelle tastiere usb o quelle tastiere chiedo scusa quelle tastiere bluetooth perché la comunicazione tra la fire stick e il telecomando avviene tramite bluetooth quindi devo dire la verità per 25 euro ragazzi soprattutto se avete amazon prime soprattutto se avete se avete una connessione sempre ripeto un wifi praticamente un wifi a casa ecco vincenzino il killer ragazzi salutiamo vincenzino se avete una connessione wifi a casa avete amazon prime volete accedere a youtube io ve lo dico sempre guardate anche video del giocherellone da youtube dal televisore di casa perché sono veramente fantastici soprattutto se avete un grande televisore per 25 euro vi siete risolti un problema pensate che io la utilizzo anche sul mio televisore che in realtà il mio grande televisore da 46 passa pollici a e un televisore intelligente però con questa diventa potenziato perché questo è proprio un quad core come processore all'interno ed è velocissima la connessione prende la connessione sia praticamente dal wifi ma addirittura esiste un adattatore che permette di prendere la connessione tramite ethernet però per 25 euro ragazzi secondo me non dico che sia regalato perché sempre 25 euro sono però è un ottimo veramente prezzo quello è un fire stick si è una fire stick vedi caro vincenzino una fire stick da 1080p perché esiste anche la versione in 4k però in realtà non ve la consiglio nel senso che se non avete dovete avere proprio la necessità di vedere i mitici mitici vedi come viene da te vincenzino vedi come viene da te la fire stick se non avete la necessità di di vedere praticamente i film in alta risoluzione a 4k evitatela 25 euro ragazzi è proprio regalata andiamo avanti togliamo ovviamente quest'altra cosa togliamo quest'altra cosa e andiamo a parlare di altri acquisti che ho fatto ecco qua ragazzi togliamo anche il telecomando della fire stick allora visto che mi serviva ragazzi un nuovo cellulare ho comprato questo cellulare della samsung a 10 lo vedete questo cellulare della samsung a 10 questo cellulare della samsung a 10 è veramente diciamo per 150 euro l'ho pagato mi serviva un cellulare con uno schermo più grande vedete e ho comprato anche questa custodia è un cellulare dobbiamo dire la verità molto molto carino io adesso ve lo accendo ve lo voglio far vedere praticamente in accensione adesso che praticamente entra vedete ragazzi samsung galaxy a 10 è molto grande io avevo un s6 praticamente che era piccolino era piccolino e mi serviva un cellulare un cellulare da utilizzare nel caso in cui nel caso in cui dovessi ricevere delle telefonate un po private per lavoro visto che mi sono trovato su amazon avevo anche qualche soldino da spendere ho detto ma mi compro questo a 10 molto molto carino devo dire la verità come cellulare però al momento non l'ho ancora utilizzato eccolo qua vi faccio vedere praticamente la schermata si accoglie praticamente con questa schermata c'è un pochettino di riflesso forse dovrei spegnere forse dovrei spegnere la luce ragazzi ecco qua vediamo un pochettino se con la luce ecco qua c'è la luce naturale quindi si vede bene non una smart 2 è quella che ho un 22 se mi servirà poco la farsi la farsi che piglia la perché praticamente in offerta è in offerta 25 euro io altrimenti devo dirti la verità non l'avrei proprio cambiata praticamente vedete ragazzi com'è questo telefono al momento non ci ho messo praticamente niente all'interno è un telefono da 150 euro abbastanza veloce anche più veloce del mio s6 però diciamo che l s6 su alcuni aspetti è più performante vedete ragazzi quindi se dovete prendere un cellulare secondo me secondo me un cellulare un cellulare abbastanza diciamo economico potete prendere questo a 10 io non ci ho messo nemmeno una scheda però l'ho configurato col wifi quindi questo è stato un altro degli acquisti che ovviamente ho fatto per l'ho appena comprata addirittura l'hai comprata mamma mia gas bisogna allora devo mettermi a fare le pubblicità per amazon io però non era questo l'intento cioè non era l'intento farvi spendere i soldi ragazzi è l'intento era farvi vedere gli acquisti perché vi avevo promesso questo video allora che cosa sono andato a comprare sono andato a comprare anche praticamente fatemi toccare qualcosa di metallo ecco qua ho comprato praticamente adesso vi faccio vedere questo hard disk questo hard disk praticamente è un seagate da 6 terabyte un seagate da 6 terabyte come potete vedere a 25 ne vale la pena ho già due chrome cast perfetto è un hard disk praticamente da 6 terabyte a non è un ibrido che io sappia questo qua praticamente mi serve per metterlo nel nuovo computer quindi nel nuovo computer che assemblerò allora lo volevo assemblare con voi però per evitare sicuramente dei danni dei danni vabbè la carta un po rinfrancio e rinfrancio un po la luce per evitare praticamente dei danni ecco qua quasi vede bene ho scelto ovviamente di far vedere solamente i componenti e ovviamente montarmeli per fatti miei quindi vedete un pochettino questo si grita da 6 terabyte niente ssd nel nuovo pc caro manux network no 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 ci sta le ssd vabbè questo ovviamente il classico hard disk mi serve ovviamente per mettere tutti i giochi che ho conservato in questi anni quindi lo mettiamo praticamente di qua che cosa adesso andiamo a vedere ho preso o questo questo devo dire la verità ho risparmiato un pochettino ho preso questa geforce gtx vedete ragazzi questa geforce gtx che è praticamente una 1660 non so se si legge su quali di qua forse dovrei abbassare vabbè c'è un pochettino di rifrazione della luce vedete ragazzi una 1660 della della questa casa è un xlr 8 praticamente un casa un po sconosciuta però me l'hanno consigliata perché questa qua in parte già overclockata e adesso ve la faccio vedere vedete ragazzi l'ho pagata non mi ricordo quando l'ho pagata però in realtà non è una scheda iper performante però visto che a breve usciva la playstation 5 a breve praticamente non so se poi questa scheda la metterò nel vecchio computer e nel nuovo praticamente metterò una scheda più performante al momento voluto comprare questa non mi sentivo di spendere 500 euro per una scheda video è vero che ho la mia età o i miei 41 anni è vero che si vive una volta sola però ovviamente ovviamente diciamo ragazzi 500 euro per una scheda grafica per giocare retro gaming o per giocare in finestra dark soul a blood born mi sembra un po esagerato almeno per il momento quindi ho preso questa adesso ve la faccio vedere adesso ve la faccio vedere ed eccola qua praticamente ragazzi tocco ancora qualcosa di ferro perché quando maneggiate le apparecchiature elettroniche tra cui appunto tra cui appunto queste qua dovete dovete sempre toccare qualcosa di ferro perché altrimenti le potete a far andare in cortocircuito cioè in realtà le potete ovviamente gli potete creare dei problemi ed eccola qua la scheda una scheda molto piccola come potete vedere un grande ventolone un dissipatore simpatico vedete il dissipatore ragazzi come è praticamente guardate che dissipatore molto simpatico e dietro ovviamente c'è la scheda scheda di tendenzialmente di non dico ultima generazione come tecnologia ma come sicuramente fabbricazione in realtà anche due prese come potete vedere una presa praticamente video un hdmi e una presa s video qui dietro quindi una scheda molto elementare si possono mettere sicuramente anche due monitor con i vari da adattatori io in realtà un monitor con doppio ingresso quindi in realtà la finestra non è in full screen perché sto utilizzando la chat volevo farti vedere la chat caro manux network ma io penso che non abbia il secondo schermo questo qua questa qua è il secondo schermo praticamente vedi questo qua al secondo schermo all s praticamente l s coso come si chiama e ovviamente l'ingresso hdmi quindi una scheda economica che però ha una sua un certo grado di performance quindi tendenzialmente se avete un compiù volete assemblare un computer di media potenza in realtà volevo assemblare un mega computer però su quella scheda grafica un risparmiato perché gioco solamente in finestra è sicuramente un ottimo un ottimo acquisto va bene no no dico che nello sim non usi il secondo schermo per guardare la chat no io tengo la chat a fianco o la chat a fianco capito non uso così io gioco quasi sempre in finestra e metto praticamente la chat a fianco questo mi permette di avere un maggiore controllo capito preferisco giocare con un unico schermo anche perché con un unico schermo direttamente la scrittura a bianco anche per questo io riesco a rispondere a ragazzi a voi in maniera così tempestiva perfetto allora per quanto riguarda per quanto riguarda il dissipatore ragazzi adesso vi faccio vedere il dissipatore ho comperato aspettate un attimo perché ovviamente ve lo voglio mettere ve lo voglio far vedere questo bombolone praticamente vedete ragazzi questo bombolone ho comperato questo enorme dissipatore vedete ragazzi questo enorme dissipatore che in realtà il dissipatore della noctua nhu 9b che va bene per i processori intel vedete ragazzi perché i processori intel vedete un pochettino qui sotto che cosa dice dice utile design due per nfb 9 premium fan sicur fan è uscita anche la pasta termica praticamente da qua una bomboniera quel dissipatore sono i dissipatori grandi per i processori di ultima generazione perché spesso quando comperate processori non escono praticamente non escono praticamente in i dissipatori e allora lo dovete comprare voi per i fatti vostri però voglio farvi vedere ovviamente cosa c'è nella confezione vedete che c'è tutta la tecnologia spiegata come viene appunto spostato il calore viene appunto dissipato il calore allora il dissipatore è questo quindi alla fin fine niente di eccezionale nel senso voi sapete che dissipatori questi qua hanno praticamente queste queste guide queste sono delle guide queste sono delle praticamente delle delle lamiere praticamente delle lamiere in realtà non tagliano più di tanto ma sono praticamente delle fascette in modo tale da far passare appunto l'area all'interno di queste forature e poi ovviamente si viene a creare questo diciamo questo ambaladà quindi a livello di progettazione non è che sia diciamo tanto difficile però ovviamente c'è tutto uno studio dietro vedete questa è la parte che ovviamente va attaccata sopra al processore quindi non è niente di che guardate anche diciamo queste parti qua che vanno a dissipare praticamente queste per questi tre quanti sono sono quattro diciamo tubolari che ovviamente vanno anche a bloccare le queste lamelle che poi realtà si potrebbero anche staccare facendo un pochettino di pressione dalla confezione sono uscite parecchie cose praticamente tra cui due ventole che ogni ventola di questa costa 15 euro quindi tendenzialmente vi risparmiate anche in parte il costo del dissipatore vedete ragazzi ci sono ovviamente queste queste ventolone guardate qua ragazzi queste ventolone ognuna di queste costa se la comprate singolarmente costa ben costa ben 15 euro ragazzi guardate quanto sono grandi non ricordo la grandezza di preciso sono da 92 millimetri quindi è quasi 10 centimetri di ventolone quando l'hai pagato l'ho pagato 45 euro l'ho pagato 45 euro non male perché se tu ti ripeto le ventole caro vincenzino le vai a comprare singolarmente della noctua costano praticamente 15 euro l'una quindi sono 30 euro il dissipatore lo vai a pagare 50 euro dalla confezione è normale che la noctua cerca di ovviamente ottimizzare il costo di tutto praticamente il costo di tutto dalla confezione è uscita praticamente la varia scatolina praticamente vedete ragazzi addirittura può essere attaccato su processori amd vedete signori amd possono essere attaccati su un processore amd ma poi la cosa simpatica è uscito praticamente tutto il kit di montaggio io adesso vi faccio vedere praticamente poi ovviamente lo andiamo a ricomporre questo kit di montaggio praticamente tra cui vedete ragazzi questi ovviamente tutti gli accessori per montarlo anche non è sì non è molto difficile montarlo già letto le istruzioni però per attaccarlo per esempio anche all'alimentazione e poi ovviamente manuali manuali vedete ragazzi vari manuali del del diciamo di questo di questo dissipatore con le varie istruzioni ci sono le istruzioni per montarlo quindi molto simpatico è il set per l'intel che sono appunto vedete ragazzi questo questi guide con alcuni accessori c'è anche una pasta termica che è uscita praticamente però al momento non la trovo sta pasta termica va bene ragazzi quindi in realtà eccola qua sta nella confezione ecco qua nelle parti comune c'è la pasta termica quindi avete anche il tubettino di pasta termica quindi per 44 euro e 50 devo dire la verità non mi posso sicuramente lamentare non mi posso sicuramente lamentare ragazzi e quindi è normale che se uno deve fare la botta la fa tutta quanta insieme non è che sicuramente può risparmiare su certe cose ho voluto risparmiare ho voluto risparmiare sul coso come si chiama sul sulla scheda grafica perché sinceramente non mi andava di spendere ripeto tanti soldi tanti soldi per per praticamente per per una scheda grafica quando comunque avrei comprato una playstation 5 a breve quindi anche perché ripeto io lo streaming lo faccio principalmente lo faccio principalmente tramite retro gaming o qualche vecchio gioco e comunque gioco quasi sempre in finestra quindi togliamo questo dissipatore veramente gigante lo mettiamo da quest'altra parte e quindi ragazzi proseguiamo con gli acquisti proseguiamo con gli acquisti ho comprato l'i7 praticamente come processore un 9700 i7 9700k su ovviamente slot lga 1151 come potete vedere è un processore pensate solamente il processore purtroppo l'ho comprato durante il periodo del covid 19 l'ho pagato 385 euro pensate un pochettino vabbè ragazzi l'udio che ci giriamo intorno il processore quello che è vedete ragazzi la scatolina molto semplice mi è arrivato vedete ragazzi intel core i7 processor unlocked vabbè ovviamente non a generazione di processore 385 euro sto coso pensate un pochettino è tutto su amazon sì tutto su amazon io preferisco comprare su amazon o amazon prime e quindi mi trovo molto bene ovviamente con con i costi ovviamente che di amazon vedete ragazzi che cosa c'è scritto dietro adesso vi faccio vedere vedete i7 i7 9700k 3.6 gigahertz 12 mega di cash su slot lga 1151 quindi ovviamente vabbè processore non l'ho aperto ancora perché ovviamente poi lo monterò per i fatti miei perché ovviamente non vorrei fare sbagli non vorrei fare sbagli aspettate adesso ve lo faccio sicuramente vedere meglio non vorrei praticamente fare sbagli e quindi ovviamente me lo monto per fatti miei va bene signori andiamo ovviamente avanti processore e poi ho comperato visto che il nuovo case che ho comprato non ha lo slot ragazzi lo slot per il cd rom cioè nemmeno frontale ho dovuto comprare un lettore dvd che poi in realtà è anche un masterizzatore se ben ricordo è un lettore masterizzatore o è un solo lettore cdvd non lo so se anche masterizzatore non mi sembra che questo sia solamente lettore questo lettore da 20 euro quindi un lettore comodo ovviamente soprattutto per i computer moderni perché se dovete avere utilizzare cd rom o dvd sicuramente senza il lettore come fate e quindi altrimenti dovete fare il cosiddetto travaso con un altro computer quindi sicuramente ve lo ve lo ve consiglio ragazzi un lettore dvd da 20 euro dvd e cd rom praticamente detto questo ho comperato anche una pasta termica un'altra pasta termica no non puoi scrivere su dvd dvd cd dvd voti ma non si io non scrivo più lì sopra in realtà ho poi anche il vecchio computer ma in realtà non mi serviva quello mi serviva solamente per leggere i cd dvd quindi alla fin fine farò il travaso con un vecchio computer ho comprato poi una pasta termica mx4 praticamente che una pasta termica maggiormente performante vedete ragazzi il mitico tubicino eccolo qua praticamente vedete ragazzi il tubicino quant'è bello il tubicino il tubicino mi piace il tubicino ecco qua ragazzi e quindi ovviamente ho comperato come potete vedere questa ovviamente pastina termica di una qualità maggiore quindi non lo so credo che utilizzerò questa per ovviamente assemblare il computer in realtà questo tipo di pasta termica dura tantissimo quindi non è il siringone il siringone sì il siringone caro manux network hai capito bene il siringone e poi faremo le siringhe a chi di dovere faremo queste siringone mamma mia ragazzi guardate la confezione veramente stile matrioska la confezione veramente stile matrioska sono praticamente sono quanti grammi sono sono ragazzi addirittura c'è un concorso qui dice partecipa al concorso vinci 10 milioni di euro sono 8 grammi ragazzi 8 grammi l'ho pagata circa 9 euro 9 euro ragazzi come potete vedere è una pasta termica di alta qualità mx4 praticamente vedete ragazzi adesso ve la faccio vedere thermal compound mx4 vinci mille euro vinci mille euro se partecipi al concorso va bene ragazzi andiamo avanti e vediamo il vostro giocherellone che cosa poi dopo ha comperato ed eccoci qua ragazzi ho comperato poi il mitico hard disk l'avevo comperato tempo fa praticamente è il mitico hard disk da quando 500 giga in realtà non è un hard disk è una scheda di memoria si chiama nv mm2 della samsung 970 evo plus praticamente voi sapete si nelle nuove schede madri si attacca praticamente all'interno adesso ve la faccio vedere all apriamo praticamente insieme e vi faccio vedere che cosa c'è vedete ragazzi guardate sta cosa quanto è piccola guardate sta cosa quanto è piccola si attacca praticamente sopra la scheda madre è a una velocità altissima di trasferimento dati un ssd praticamente solamente di invece di averlo nella scatoletta l'avete direttamente nella stecchetta e quindi pensate addirittura è la cosa ideale proprio perché ha sempre un grande accesso al processo al processore che ovviamente al processore al chip che va a conservare dati addirittura al sopra nella scheda madre praticamente la scheda madre porta anche un dissipatore da attaccare praticamente sopra quindi devo dire la verità l'ho vista in funzione nelle recensioni molto piccolo non lo voglio cacciare ancora perché poi la installerò direttamente e quindi devo dirvi la verità sicuramente un acquisto obbligatorio soprattutto se volete avere il sistema operativo e ad alcuni programmi che richiamate sempre in altissima velocità oppure alcuni giochi ragazzi alcuni giochi che potete installare certo 500 giga non sono molti però è normale che è normale che non va usata diciamo per metterci tutto sopra quindi sicuramente il sistema operativo e poi dopo ovviamente dovete metterci sopra caso mai qualche gioco qualche programma che usate in maniera ovviamente o ma in maniera ovviamente diciamo molto molto assidua ma non ricordo quando l'ho pagata perché ovviamente devo dire la verità non ho i prezzi sulla mano però sicuramente se assemblate un nuovo computer ragazzi mettete un ssd di questo tipo secondo me avresti potuto prendete un nvm sono ancora più veloce anche se scaldano di più e ho pigliato questo pigliato questo che ti devo dire caro vincenzino questa qua forse perché anche costava di meno il miglior rapporto qualità prezzo va bene ragazzi continuiamo ragazzi ciò che relloni continua nel farvi vedere le altre bellezze come ram che cosa ho preso ho preso le venge ans e le px praticamente queste qua ddr4 da ben 300 e mila megahertz e sono 32 giga di memoria ragazzi come potete vedere queste sono praticamente le ram che andrò praticamente a inserire all'interno del mio computer ho preso 32 giga molti dicono vabbè avrai problemi con windows 10 per il riconoscimento ma che lo sappiano ci sono grandi problemi con windows 10 quindi queste qua sono praticamente come potete vedere le ram che sono andato a prendere adesso ve le faccio praticamente vedere perché vale sicuramente la pena e eccole qua ragazzi le ramone le ramone eccole qua praticamente sono queste non le caccio dalla confezione perché ovviamente sarebbe totalmente inutile però ovviamente queste qua sono le ram vedete ragazzi i piedini hanno i dissipatori sopra belli dissipatori dietro quindi da un punto di vista estetico niente di che non hanno i led però ovviamente faranno il loro dovere ddr4 a 3000 megahertz di velocità trasferimento quindi dati scrittura e lettura beh ragazzi ho preso 32 giga l'hai già fatto vedere il case il case non l'ho fatto vedere te lo faccio vedere alla fine perché lo devo alzare praticamente lo devo alzare un case molto particolare un case che però non ha l'entrata non ha l'entrata non ha l'entrata per il cd rom ho preso anche pagata a poco prezzo questa chiavetta ragazzi una chiavetta da 64 giga mi serviva una chiavetta non troppo grande perché se poi la perdo è un problemino questa chiavetta da 64 giga della che cos'è ragazzi questa qua della verbatim della verbatim adesso ve la faccio vedere meglio ecco qua data travel 100 g3 un ottimo velocità di raspiramento dati la chiavetta di te para papa 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 ecco qua ragazzi si preme grande sicurezza per quanto riguarda ovviamente la che l'entrata questa entrata praticamente della chiavetta aspettate un pochettino e quindi questa qua è praticamente questa chiavetta pagata 6 7 euro mi ricordo per giocare una spendazione la chiavetta usb non ti serviva in realtà la chiavetta usb non mi serviva in realtà non tanto perché ci metto il sistema operativo quindi ci metto il sistema operativo nel caso in cui ovviamente non possa andare non posso andare a installarlo tramite cd rom quindi metto qui sopra il sistema operativo farò ovviamente l'installazione del sistema operativo quindi questa qua ovviamente la mitica chiavetta che mi serve come per il sistema operativo vabbè vari cavetti che sono usciti il manuale della scheda grafica che ovviamente non vi faccio vedere perché inutile e poi ho comperato ragazzi dei cavi dei cavetti praticamente infatti dovete sapere che amazon vende anche i cavi praticamente sono cavi di alta qualità ho pigliato questi hdmi high speed hdmi cable sarebbe praticamente permettono anche il trasferimento dei dati quindi sono praticamente i cavi hdmi tra vite rete praticamente quindi permettono anche il trasferimento dei dati ho preso 22 quali sono tre cavetti ragazzi tre cavetti praticamente ho preso si risparmiava solo di lunghezza vedete ragazzi tra i tre cavetti hdmi col connettori dorati non ricordo se ho pagato 15 euro 13 euro praticamente non ricordo comunque ho pagato veramente poco e sono tre cavetti da un metro 80 l'uno vedete ragazzi ad alta velocità sono i cavetti ecco qua vedete ragazzi adesso vi faccio dai speed with ethernet praticamente permettono questi cavi di non solo sono hdmi ma di trasferire praticamente anche i dati i dati quindi dove di aver dato per 15 euro non si sa mai non si sa mai giocherellone si è comprato anche i cavi si è comprato anche cavi adesso andiamo collegato ragazzi che cos'è questa scatoletta questa scatoletta vi serve se volete streamare dalle console quindi se volete streamare praticamente dalle console vi serve questa scatoletta io ho preso l'hd 60s più ha già preso la che di attivazione di windows tengo il mio windows originale pagato a quattro soldi e quindi utilizzerò praticamente quello perché ovviamente me lo sposto sull'altro computer e quindi ragazzi eccola qua praticamente questa scatoletta mi permette praticamente di andare a streamare in alta risoluzione fine 4k in hdri ecco qua fare un passo tro praticamente prende i dati prende il segnale video delle console anche console di ultima generazione anche ps5 e mi permette appunto di streamare di acquisire i dati senza ovviamente nessuna latenza in cui questo ovviamente molto molto importante se volete utilizzare le ultime console ma anche le vecchie console infatti dovete comprare degli adattatori particolari andiamo a vedere un pochettino qui dentro che cosa c'è adesso ve lo faccio vedere praticamente eccolo qua praticamente si apre questa scatoletta costa 200 euro ragazzi sta cosa sta cosa costa 200 euro guardate qui dentro che cosa c'è ci sono vari cavetti ovviamente per fare il pass trovero console pc e poi questa è praticamente la scatoletta invece di essere ovviamente invece di essere interna che costava un po di più però è più veloce è esterna praticamente vedete ragazzi qui è l'uscita praticamente molto semplice molto semplice e qui ovviamente è l'entrata con l'alimentazione quindi vedete l'alimentare l'entrata del video alimentazione e collegamento quindi ragazzi potete vedere questo è il gato praticamente costa da 200 euro sta cosa però l'ho voluta comprare per il canale quindi per giocare farvi vedere poi dopo i giochi playstation 4 e i prossimi playstation 5 quindi potete immaginare sicuramente che cosa si andrà a fare ragazzi giocherellone non scherza il giocherellone non scherza ragazzi giocherellone non scherza andiamo ovviamente a chiudere la vedremo poi in attivo sembra un cellulare sembra un cellulare sembra talco ma non è serve a darti l'allegria sembra talco ma non è serve a darti l'allegria quindi questa qua ve la consiglio perché sicuramente da quanto ho visto le recensioni è molto molto performante poi ovviamente aspettate la mia recensione in tempo reale hd 60s più non comprate il vecchio modello senza l'esser plus praticamente questo qua praticamente mi permette la cattura 1080p a 60 frame al secondo hdri all'usb 3 come interfaccia e il pass true ovvero il passaggio di grafica può avvenire fino praticamente a 4k a 60 frame al secondo in hdri hdr hdr praticamente quindi utilizzando l'hdr sicuramente un acquisto obbligatorio per chi vuole fare uno streaming di alta qualità portando giochi recenti ragazzi sempre che ovviamente non voglia giocare a titoli per pc giocandoli in finestra come mettendo la chatta al lato va bene va bene ragazzi andiamo ovviamente avanti ed ecco bombolone ed ecco bombolone qual è il bombolone ragazzi stava per cadere tutto eccolo qua praticamente il bombolone che in realtà è questa scheda madre ragazzi è rock maximum 11 hero ovviamente qui l'asus esagero a tutta forza esagero a tutta forza ragazzi e guardate qui dentro che cosa c'è c'è veramente la scheda madre praticamente si apre sta cosa e guardate qui dentro che c'è un bombolone praticamente un bombolone c'è una mega scheda grafica una scheda madre incredibile ragazzi che non so se potete ovviamente guardarla tutta quanta perché talmente grande ragazzi che non entra praticamente nel video l'ho pagata 285 euro se ben non erro non ve la voglio cacciare fuori perché ovviamente poi la monterò e non voglio ovviamente attaccarla con l'eventuale elettricità statica a due ingressi per il ssd a stick cioè stecchetta ovvero nel nb m2 e poi ovviamente tiene due porte tre porte pc ai a 16 bit e 2 e 3 notri a 16 bit e 2 a 32 se ben ricordo per ragazzi tutti i dissipatori quando è bellella quando è simpatica 4 slot per la memoria quindi veramente qualcosa di boh potentissimo e di potentissimo e beh ragazzi che dirvi allora questa qua è la bombolona praticamente la bombolona di turno e quindi ragazzi torniamo all'alimentatore arriviamo all'alimentatore che ho già montato nel case ho preso come alimentatore un rm 750 watt della in realtà è un rm 750 x della corsair in realtà e sistemano anche altri alimentatori un pochettino più economici cioè più più economici però ho voluto andare sul sicuro con la corsair che veramente garanzia di qualità bellissimo il packaging vedete ragazzi il packaging tutto quanto carino manualini manualetti fascettine vedete un po è anche addirittura la borsetta coi cavi questa borsetta con tutti i cavi quindi veramente molto elegante molto simpatico avete questa borsetta che poi in realtà potete marchiata corsair che potete ovviamente utilizzare anche per altre per altre per altri cavi per portarvi cavi all'interno di questa borsetta vedete ragazzi ci sono tutti i cavetti necessari adesso vi dico anche quanti cavi ci sono inutile che ovviamente ve li cacci per far vedere quindi questa borsetta c'è veramente di tutto quindi veramente molto versatile grande qualità corsaire da anni ovviamente sul mercato sono voluto andare sono voluto andare praticamente sul sicuro ragazzi sul sicuro proprio in vista dei prossimi streaming su playstation 5 perché il giocherellone poi vi farà vedere i giochi più belli del passato e del presente su playstation 5 quali sono i cavi ovviamente qui presenti vediamoli un pochettino insieme ci sta praticamente un atx cable che ovviamente quella che va sulla scheda madre come potete vedere c'è ovviamente un 2 per rps atx a 12 volt poi ci sono i pcii connector che sono ben seppi vabbè un pcii connector i sata connectors e che sono per 9 i pcii connector sono per 4 i peri per la connector sono per 8 e ben 2 no è un praticamente floppy drive adapter ovviamente perché utilizza ancora i floppy quindi non ricordo quando l'ho pagato però devo dire la verità è un acquisto sicuramente obbligatorio se volete avere sicuramente un processore i7 con una scheda grafica potente in realtà avrei potuto prendere anche un 650 però per il costo irrisorio la differenza di costo che praticamente aveva ho preferito prendere l'rmi l'rm 750 x la borsetta per ricomorchiare la borsetta di mamma ebbe vorrei mille lire a mese per avere la borsetta di mamma e ragazzi che cosa ho fatto è finito tutto è finito tutto quindi ragazzi cari amici cari amici ovviamente il vostro giocherellone a poi volevo farvi vedere il joypad che uso praticamente per fare le live e questo qua ha pagato 40 euro dell' xbox one però col cavetto quindi all'entrata praticamente per essere giocato anche su per essere usato anche su pc molto molto versatile va beh al momento non l'ho pulito dopo lo pulisco con l'alcol quindi è molto leggero c'ha anche due vibrazioni possono andare anche le pile e quindi devo dire la verità per 40 euro ve lo consiglio se lo trovate a 40 euro è ottimo veramente a il case il case ha ragione vincenzino vincenzino ovviamente voleva vedere il case voleva vedere il case il vincenzino eccolo qua ragazzi il mega case ovviamente eccolo qua il mega case che ovviamente ho preso adesso ve lo faccio vedere da ragazzo di tezza eccolo qua ragazzi il mega case che ho preso non so se si vede praticamente da da lontano ragazzi eccolo qua praticamente non si vede niente non si vede niente vabbè dovrei farvelo vedere da quest'altra parte qua comunque questo è il case vabbè una versione proprio azzardata ragazzi di questa live non c'entra il case è troppo grande vedete ragazzi è un case veramente gigante eccolo qua adesso forse si vede bene con questa ventolona praticamente dietro molto molto simpatico però a questo design un po particolare vedete ragazzi è un big tower molto molto bello è bravissimo l'nz e xt praticamente che però devo dirti la verità non sono molto diciamo contento perché non ha l'entrata vedi praticamente per il floppy per il cd rom nemmeno sopra nemmeno sopra e quindi devo dire la verità è molto simpatico è molto bellino però non ci siamo ragazzi perché ovviamente a me serviva col floppy uno dice giocherellone ma perché non l'hai visto prima perché non l'hai visto prima perché ragazzi non lo sapevo non lo sapevo e quindi ragazzi che dirvi di tutto questo che dirvi di tutto questo che dirvi di tutto questo ragazzi vedrete in futuro praticamente in fuori ragazzi un'ultima cosa un'ultima cosa per il floppy per il cd rom scusami caro manox network ho comperato quando vado praticamente a correre questo lettore mp3 un lettore molto versatile mi hanno dato anche una scheda secure digital da 16 euro ecco qua praticamente qui dentro un lettore molto versate vedete ragazzi si accende praticamente così qua sopra praticamente scusatemi ecco qua si accende così esce praticamente il welcome non so se si vede il messaggio e subito diciamo si avvia quindi si avvia in maniera immediata potete scegliere ovviamente le vostre musiche vi mettete però le cuffiette si spegne in maniera automatica si le ipod si 20 euro con tutta la scheda sd funziona molto bene devo dire la verità molto veloce nel leggere gli mp3 può leggere fa anche i filmati legge praticamente anche i filmati vedete ragazzi molto molto simpatico 20 euro con tutta la scheda però per andare a correre e per andare a correre quindi ad allenarmi mi servivano delle cuffiette particolari mi servivano delle cuffiette particolari e allora che cosa ho comprato ho comprato queste qua della sony queste qua della sony che in realtà sono vedete ragazzi sono molto particolari cioè sono cuffiette per andare a correre che io vi consiglio perché hanno questo attacco vedete ragazzi si attaccano praticamente dietro all'orecchio quindi in modo tale da essere ferme praticamente dietro all'orecchio e quindi ovviamente non possono cadere e poi l'auricolare viene sparato praticamente all'interno all'orecchio perpendicolarmente al padiglione vedete ragazzi come sono fatte vedete ragazzi vedete sono un pochettino un pochettino vedete ragazzi perpendicolari quindi in realtà entrano all'interno l'orecchio si fermano dietro all'orecchio e possono essere vedete ragazzi qui aggiustate e andando dietro e avanti quindi si bloccano proprio e quindi è quasi impossibile che possano cadere vi devono staccare l'orecchio se le vogliono togliere come te lo porti quando vai a fare giochi lo attacchi al braccio no lo metto nel marsupio mi metto nel marsupio le chiavi e il cellulare e mi attacco anche mi metto praticamente nel marsupio il mitico il mitico ovviamente riproduttore di mp3 quindi devo dire la verità molto soddisfatto di questi acquisti queste qua le ho pagate 10 euro ragazzi queste sono della sony sono della sony originale sono della originali della sony quindi devo dire la verità ragazzi su amazon effettivamente si risparmiano un sacco di soldi se li avessi dovuti comprare il negozio sicuramente avrei speso molto 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 di più ragazzi non esiste proprio va bene signori che dirvi quindi avete capito che ovviamente è tempo di passare al nuovo computer datemi qualche giorno per assemblarlo e installare i programmi e inizieranno ragazzi le live con le console perché ragazzi le live con le console perché vi devo far vedere una cosa mi devo far vedere una cosa mi devo far vedere una cosa allora la cosa la cosa la cosa la cosa la cosa ecco qua praticamente praticamente dovete sapere dovete sapere che il vostro amico il giocherellone che cosa vi deve far vedere che guardate vincenzino vincenzino sta svenendo sta svenendo vincenzino dovete sapere che per attaccare le vecchie console al alla quella scatoletta ovvero all'elgato dovete avere quest'altra accessorio praticamente vedete è be capito banx network sta impazzendo dovete avere quest'altro accessorio che praticamente un trasformatore che trasforma il segnale composito in hdmi quindi utilizzo questa scatoletta per acquisire il segnale composito che la massimo massima qualità per quanto riconcede nella vecchia console in hdmi tra 720p vedete c'è il pulsantino qui e 1080p vedete ragazzi incredibile ai qualche upscaler quindi è praticamente questo un connect to the vabbè chiama connect to the future però vi ripeto questo mi serve per utilizzare per esempio la playstation 2 per utilizzare anche nintendo wii il game cube quindi per fare proprio un retro gaming di altissima qualità di altissima qualità utilizzando il real hardware ragazzi il real hardware quindi mi avevo detto che avrei speso i miei soldini per portare avanti questo progettino questo progettino questo ovviamente lo mettiamo di qua mettiamo ovviamente anche le minime istruzioni se dovete invece utilizzare praticamente vedete ragazzi questa cosa ancora non l'ho aperta o l'ho aperta non lo so mi ricordo se l'ho aperta ancora si l'ho aperta se dovete invece utilizzare un nintendo wii un nintendo wii la vecchia la prima generazione di nintendo wii ragazzi che cos'è praticamente la vecchia generazione di nintendo wii la vecchia generazione di nintendo wii aspettate che non si vede praticamente è compatibile con il game cube quindi con il nintendo wii di prima generazione potete anche fare streaming con il game cube vi serve questo apparecchio si mette dietro nintendo wii con la sua particolare entrata e fa uscire praticamente il segnale in hdmi e potete utilizzare anche le cuffiette praticamente quindi veramente per l'ho pagato 10 euro sto cosariello pensate un pochettino però non l'ho ancora utilizzato credo che funzioni abbastanza bene 10 euro è veramente un prezzo ridicolo signori che dirvi le live del giocherellone quindi preparati perché ne vedrete di cotte di crude grandissimi giochi playstation 4 xbox 360 playstation 3 ci sono per esempio i titoli di ken il guerriero su playstation 3 che non credo che vi possono portare tanto agevolmente perché sono esclusivi playstation 3 xbox 360 purtroppo usciti solo su console e ovviamente la playstation 5 portata in rail hardware e oltretutto le avventure grafiche soprattutto della quantum dream infatti uscito praticamente detroit become human che giocheremo proprio sul pc nuovo quindi preparatevi perché ne vedrete ragazzi di cotte e di crude per il momento ovviamente è tutto cuto no ken si o cuto no ken o cuto di kennedy o cuto quindi vedrai veramente tutte di più ragazzi per il momento ovviamente è tutto quindi iscrivetevi ai miei canali su youtube e di twitch attivate le varie campanelline perché le vedrete ragazzi di tutti i colori attraverso questo mega progetto trutto anche un volante un volantone con il cambio praticamente che poi vi faccio vedere e ragazzi che dirvi scrivete fate iscrivete tutti quelli che volete attivate le varie campanelline ovviamente canali telegram e di discord per parlare direttamente con me non che con tutti voi ragazzi con tutti voi con tutti voi praticamente che siete i miei amici miei follower e poi ovviamente ragazzi una cosa incredibile ovviamente ci saranno che c'è il blog dove potete apprendere notizie ragazzi notizie praticamente su tutti i videogiochi più belli che ovviamente ho trattato io vi ringrazio appunto per la visione vi avevo proposto questo video e ovviamente ci vediamo più tardi con incredibili videogiochi ciao a tutti dal vostro giocherellone ciao a tutti Grazie a tutti.